Il Bitonto è vivo, i Leoni Neroverdi espugnano il Lorusso di Venosa e superano il Lavello per 3-0 nella tredicesima giornata del girone H di Serie D. Solito 4-3-3 per Mr. Zeman, scelte obbligate invece per lo sito sul fronte neroverde, che deve fare a meno di Basile, Lucchese, Muscatiello, Taurino e Schiera, i suoi con il 3-5-2. Parte bene con coraggio il Bitonto, che al sesto passa in vantaggio. Chiaradia dà la tre quarti su calcio da fermo. Serve Maffei, che prolunga per Gomez. I difensori provano ad opporsi, ma la palla schizza successivamente tra i pili di Figliolia, che con un destro raso terra batte Trapani. Gli ospiti continuano a spingere e al diciottesimo ecco il raddoppio. Clemente illumina per Maffei, che tutto solo salta Trapani e deposita in rete per il 2-0. Lo stesso estremo difensore gialloverde è decisivo poco più tardi sul fendente di Chiaradia. La prima frazione va in archivio con il Bitonto avanti. Nella ripresa il Lavello accenna una timida reazione e il Romano appuntare la sveglia dei suoi al 61esimo con un tiro da fuori, conclusione fuori misura. Il Bitonto però torna subito a macinare gioco e occasioni. Al 68esimo Murilo intercetta palla sulla tre quarti avversaria, vede Trapani fuori dai pali e ci prova dalla lunga distanza. Sfera che sorvola la traversa. Minuto 72, bella iniziativa di Golia, che si accentra da sinistra e dal limite. Cerca il bersaglio più grande. Tutto facile per Petrarca. Tre minuti più tardi ecco il tris di marca neroverde. D'Angelo sporca i cross di palazzo e la palla in maniera beffarda finisce nuovamente in rete. Il Bitonto controlla fino al triplice fischio finale e strappa tre punti importanti in ottica salvezza.